ci siamo? eh sì mannaggia ragazze scusate piccolo inconveniente ragazze anche oggi facebook fa i capricci scusateci tanto ogni tanto purtroppo ragazze abbiate pazienza però lavorate con i social è anche questo non ci possiamo fare nulla siamo in onda su entrambi? si è arrivata di nuovo la notifica benissimo benissimo vediamo un attimino ecco qui vediamo se ci siamo ragazze scusate riprendiamo allora riprendiamo borza bianca rafia per Laura Terzigni scusate ragazze di questa piccola interruzione ma come sapete è un casino negli ultimi giorni 14,90 ok ragazze aspettiamo qualche secondo che vi ricollegate abbiate pazienza ragazze ma purtroppo eh in questi giorni questa settimana abbiamo avuto un sacco di piccoli impicci anche a livello di connessioni di solito queste cose succedono quando è brutto tempo eh però ogni tanto facebook è così ragazze dobbiamo avere pazienza ci sbracca un po' eh sì dai nessun problema si riprende tranquillamente e che bufate Valentina allora ragazze riprendiamo riprendiamo un po' di pazienza aspettiamo che vi ricollegate dai 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 che ce la facciamo allora rientriamo con stavamo parlando delle borze allora Laura Terzigni ci ha prenotato quella da 14,90 grande in rafia io vi sto facendo vedere l'ultimo pezzo in blu scuro sempre intrecciato effetto rafia blu scuro eccola qua bella grande eccoci qua sì ragazze dai dai che ci riusciamo a ricollegarvi dai 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 ci siamo un po' di pazienza allora vi faccio vedere anche qualche zainetto allora anche qualche zainetto questi zaini molto carini sono a 14,90 euro abbiamo con il nero poi abbiamo il grigio il cuoio ciao Giorgia ciao Giorgia allora ragazze tre colori per questo carinissimo zaino eh taglia media né troppo grande né piccino diciamo una buona via di mezzo una buona misura 14,90 tre colori disponibili scusate se ripeto ragazze ma stiamo aspettando che che ritorniamo a mio zaino nero Anna Valerio grazie Anna Anna non so se tu sei una nuova amica o sei già una nostra cliente nel caso contrario che sei nuova mi raccomando 14,90 mandaci la conferma al nostro numero Whatsapp noi non contattiamo sul messenger prendiamo gli ordini prenotazioni eccetera eccetera tutto su Whatsapp il numero lo trovi qui dietro ok allora ragazze mi rimane zaino cuoio per Michela Sisti grazie Michela allora mi rimane soltanto il grigietto ok in colore sicuramente molto molto neutra benvenuta Anna ci fa piacere che sei una nuova amica che sei entrata a far parte di questa gabbia di matti allora mandaci la tua conferma con il tuo nome e cognome su ehm sul nostro numero Whatsapp scusami la borsa precedente è stata presa Manu a quale ti riferisci a quella grande in rafia quella è stata presa è rimasta solo blu scura eh altrimenti sì sì penso che tu ti riferissi a quella perché era l'unica grande sì sì è stata prenotata da Laura Terzigni sì sì Anna Lisa si era interrotta Facebook si era sconnessa e adesso siamo di nuovo attivi eh sì 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 eccoci qua allora ehm sì Laura te l'abbiamo messa sì sì è la sua è la sua Silvia mi fai vedere le cinture con fascia elastica sì arriviamo tra un pochino piano piano facciamo vedere tutte ragazze ultimo zaino 14,90 poi andiamo avanti altri due zaini buon pomeriggio a voi ciao ragazzi grazie caccia ciao caccia allora sempre 14,90 leggermente più grande come dimensione in questo caso abbiamo il nero e il rosso valentino molto belli anche questi taschina davanti eccoci qua vedete questa maniera cerniera centrale ecco qua 14,90 leggermente più grande rispetto a quelli che abbiamo visto poco fa rosso valentino e nero poi c'è un ultimo pezzo anche qui ragazzi ultima dragollina perdonatemi me la sono dimenticata ultima dragollina chiaramente si può allungare qui e metterla anche eh in diagonale 14,90 anche questa tracolla prezzo scontato ultimo pezzo soltanto in grigio è effetto trapuntato che poi è un grigio argento molto carino grazie Giorgia condividete e confermate su whatsapp allora stiamo parlando di 14,90 ultimo pezzo in grigio argento effetto trapuntato poi continuo con gli zaini sempre stesso prezzo manteniamo sempre il prezzo di 14,90 euro abbiamo questo color tiffani bianco bianco e nero per favore siamo in diretta nero nero bianco e tiffani ragazzi anche quest'altra tipologia siamo a 14,90 euro qui è uno zaino ancora un po più ampio ok e poi sempre della stessa famiglia abbiamo anche una versione leggermente differente a livello di porti che è un grigetto anche qui un colore neutro anche questo 14 euro e 90 questo è l'ultimo pezzo rimasto ragazze soltanto questo allora adesso visto che avevamo cominciato con con mi interessa lo zainetto rosso olga frorio io penso che tu anche se una una nostra nuova liga se ti piace puoi prenotarlo poi abbiamo bisogno 14 euro e 90 abbiamo bisogno della tua conferma sul nostro numero whatsapp che è questo che trovi qui alle nostre spalle perché noi prendiamo la gli ordini definiamo tutto modalità di pagamento e qual'altro tutto su whatsapp anna valerio dice che ha confermato grazie anna molto gentile signora olga mi dica se vuole che le metto da parte lo zainetto rosso l'essenziale che poi dopo ci dà la conferma allora io direi di continuare con le collane perché avevamo cominciato sì sì ok allora io direi di senti io ho un dubbio sì no questa è quella sola perché quell'altra ha il bracciale mi sa che l'avevo messa insieme adesso vediamo dai allora ragazzi cominciamo con un 9 euro e 90 stiamo parlando di una catenina con tre cuoricini guardate che carina cuoricini argento e oro sono tre eccoli qua non riesco a capire se sono tre colori diversi no dovrebbe essere uno rosato un oro e uno argento 9 euro e 90 tre cuoricini potrei rivedere il zaino nero valentina costa quale zaino nero perdonami io te lo faccio rivedere ma non so a quale ti riferisci questo zaino valentina borsa blu con il fiocco sì te lo faccio rivedere valentina costa fammi sapere se è questo ma solo rosso no c'è anche nero allora il valentina no olga eccolo qua sia nero che rosso lo zaino 14 e 90 alessandra sa voglia dice se possiamo far rivedere la borsa con il fiocco blu ecco l'alessandra l'ultimo pezzo a 14 e 90 quello zaino la dice chiaramente all'interno c'è anche la tracolla valentina costa ci dice quello che hai preso tu nero con le borsette quanto costa 14 euro e 90 ok è so mezz'ora che lo dico davvero ha fatto la domanda no pensavo che tu mi hai chiesto a me hai detto ma che è sempre quello il pezzo ok la diretta si chiude ragazzi no allora che poi la cosa bella è che è mezz'ora che diciamo 4 euro nel senso che tutti gli zaini allora valentina costa dice mio lo zaino lo zaino nero ok quindi quello lì che ho fatto ok valentina grazie mille scusa mi ripeti il prezzo 14 e 90 non ti ammazza se no la smetti allora non ci fate caso voi è tiziana che mi prende in giro allora valentina eccolo qui per te 14 e 90 a parte che quelli sono prezzati alessandra fammi sapere se questa con il blu ti piace la tigarba la tigarba questa è in saldo a 14 e 90 facci sapere la tigarba alessandra la tigarba alessandra mi ha blu te l'ho detto io che la carbava e non lo potevi dire un secondo fa allora Silvia borsa bianca dietro di te con borchio uguale alla fucsia prezzo ma queste sono prezzate non è cambiato niente 14 e 90 allora Filomena tra poco le faccio vedere posso vedere la borsa oro grazie Rita sbatte la testa sul tavolo e aspetta ma Susi quale parli quella che ha preso lei quella che ha preso lei sì ma eccola guarda ti stanno scrivendo tizi non fare arrabbiare Silvia eccola Susi perché voi non sapete quello che mi fa non è vero alessandra 14 e 90 la scontata la borsa che hai preso tu Susi mi confermi che la vuoi? sì mia blu dice Alessandra Susi aspettiamo conferma Alessandra scusa non ho capito il prezzo sì sì già gliel'ho detto allora ragazzi passiamo andiamo avanti passiamo alle nostre collane linea 9 euro e 90 con crocefisso e perle molto carina questa eccola qui ve la faccio vedere bene 9 euro e 90 poi abbiamo con i tre cuoricini che era quella che stavo facendo vedere prima sempre 9 euro e 90 sì anche io vorrei vedere quelle con le borchie ok siete dispettose per oggi che scostumate guarda che scostumate guarda io non lo so ma io dico io faccio vedere una cosa e me ne chiedono un'altra ma siete dispettose come attiziate allora ragazzi il prezzo è di 39 euro e 90 guarda Rita guarda Rita smetti la Rita non fai la cattiva allora ragazze 39 euro e 90 come vedete sono delle borze molto particolari molto lavorate e soprattutto anche grandi benissimo Susi perfetto belle capienti come si blocca Carmelina non lo so io vedo bene da noi no Carmelina forse è una tua connessione prova a uscire e rientrare allora ragazzi bianca 39 e 90 poi ce l'abbiamo fucsia e chiaramente la versione nera eccola qui mia collana con croce grazie grazie Roberta eccola qui per te così anche tu hai le tue croci il prezzo 9 e 90 allora per chi voleva vedere le borze nera mia porche Valentina Costa grazie Valentina me lo ridici 39 e 90 ragazzi mi rimane la fucsia e la bianca sono molto molto belle allora Valentina Costa si già lo genetto della Valentina Costa lo metti sempre a nome mio perché è mia figlia e mo lo dici Alessà ah mannaggia a te ma io dico bo guarda che voi siete proprio cattive eh allora Valentina Costa guarda che Valentina Costa era la figlia di Alessandra sa voi ametto si Olga Frodio dice confermato grazie signora Olga brava ammazza che brave che sono queste nuove nuove amiche loro sono brave sei tu che sei disgraziata madonna che carattere allora andiamo avanti un attimino con altre bolle guardate che belle anche queste ragazze qui invece siamo a se non sbaglio aspettate prima che dico fesserie ecco 29 dove sta il prezzo 29 e 90 sì 29 euro e 90 eh eh Titti mi dai la tua solida Titti mi dai la tua battuta e a me che carattere allora ragazze 29 euro e 90 invece questa tipologia questo modello di borza particolare perché abbiamo la catena davanti bella poi abbiamo la eh l'apertura in questa maniera quindi si chiude così con una banda e poi dietro abbiamo la cerniera e addirittura ecco questa questa sorta di modello particolare vedete un po' sfiziosa è disponibile in nero eccola e in bianco queste due borze a 29 euro e 90 allora altra borza molto particolare in questo caso in questo caso abbiamo la versione con il panna e la versione rossa manico rigido come vedete tracollina in questa maniera ma all'interno c'è anche questa la potete lasciare poggiata e all'interno trovate la tracolla vera e propria che credo sia in rosso sì in rosso e in pelle eccola qui quindi praticamente questa catenina davanti diciamo la potete utilizzare utilizzate semplicemente per bellezza disponibile in rosso e color panna prezzo 29 euro e 90 molto belle ragazze approfittate perché sono veramente molto molto belle poi vediamo un pochino ah qui abbiamo un'altra offerta altra offerta qui abbiamo color beige e rossa anche queste ragazze in saldo da 19 euro e 90 scendiamo a 14 euro e 90 ho la versione beige che è questa qui e la versione rossa chiaramente ragazze doppi manici e tracolla lunga come sembra quanto ce l'hanno tutte tranne che gli zaini sì gli zaini no ma tutto il resto sì quindi anche qui ragazze sconto da 19 e 90 a 14 e 90 versione beige e versione rossa anche io dentro ho la tracolla chi ce l'ha io io proprio dentro ho la tracolla all'interno all'interno io ho una tracolla si 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 poi ultimi due zaini della giornata credo mamma mia qua mi cade tutto ultimi due zaini della giornata stesso prezzo degli zaini che abbiamo visto finora versione nera e versione blu scura prezzo non cambia dagli zaini precedenti 14 euro e 90 anche questi ragazze come vedete chiaramente la pattina sopra la cerniera cerniera anche davanti quindi tutto utilizzabile 14 e 90 blu scuro e nero ok e io direi che per adesso andiamo avanti ok allora io farei vedere un'altra volta va bene queste le abbiamo fatte quindi lasciamo andiamo avanti allora vediamo un po' completi allora ragazzi qui andiamo sul mondo delle pariurre abbiamo collana con bracciale 19 euro e 90 due versioni di colore abbiamo questa con il nero diciamo una base nera e poi questa con l'argento quindi stiamo parlando io c'ho il bracollo un barcollo ma non mollo allora Giorgia allora ragazze argento e versione nera molto belle molto eleganti sfiziose direi 19 euro e 90 con lana con bracciale la pagina si dai dopo tanto ci ho messo sì perché più che altro così vedo quello che faccio e quello che no poi continuiamo con il mondo delle pariurre abbiamo la pariurre argento sempre 19 euro e 90 però in questo caso più lunga versione lunga e poi abbiamo la versione scura che è un grigio antracite eccolo qua ed ecco la seconda versione eccola qui quindi versione argento lunga versione antracite 19 e 90 anche qui bracciale più con lana ecco qua parurre nera regalo per la sorella ok ecco la saretta confermato vero cara eccola qui 19 e 90 no 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 magari leva un prezzo qui perché sennò no vabbè però noi sappiamo che è completa insomma allora andiamo avanti ragazze ricominciamo con gli articoli a 9 euro e 90 abbiamo questa catenina carissima con l'argento eccola qui albero della vita 9 euro e 90 poi con il gattino color diciamo che è un oro un oro un oro rosa questo questa catenina qui e poi ah no il gattino sono uguali quindi allora con il gattino sono disponibili due a 9 euro e 90 eccole qua mentre con l'argento solo l'albero della vita eccola qui quindi sono tre pezzi se siete interessate ragazze ce li ho qui vado avanti vado avanti vediamo un po' che facciamo vedere ce ne sono talmente tante allora questa è nuovissima ragazze cuoricino e perle eccole qui color credo sia un rosa vero un oro rosa giusto di? sì sì e siamo a 12 euro e 90 come vedete eccola qui un po' lunghetta cuoricino e perle 12 euro e 90 allora poi continuo ah voglio far vedere questa molto bella qui invece andiamo su una linea particolare eccola qui questa sembra sembra eccola qua guardate un po' ragazze si vede? sì guardate che bella sembra un po' la cosa di Christian Dior no? infatti c'ha tutti i profumi esatto c'ha tutti i boccetti di profumi questa 19 euro e 90 molto particolare ragazze molto bella ma che aveva anche il bracciale non era questa era l'altra ah ok ok perfetto ce n'è un'altra facsimile ok facche facche simile facche simile ragazzi modello Christian Dior guardate che bella questa 19 euro e 90 costa un po' di più perché giustamente vedete come è ricca di particolari molto e poi c'ha il profumo dentro se vi serve l'aprile sì esatto cioè in che senso se puzzano non ho capito non ho capito il concetto poi attenzione andiamo sempre a 14 euro e 90 in questo caso l'è bellina davvero l'è bellina l'è bellina eccolo qua invece 14 euro e 90 con lana argento e nera bellina 14 e 90 crocefisso con medaglia ecco qui crocefisso medaglia molto bella nera e argento 14 e 90 io poi le spasso da qui poi andiamo su queste che sono due versioni una con l'oro ma sono diverse però no no sono uguali sono uguali sembra più lunga no perché è agganciata ah ok mia cosa Maria Rosa tesoro dimmi intendi questa qui con argento e nera Maria Rosa dici se è questa o meno mi conferma secondo me si è l'ultima dai sempre però la descrizione dell'articolo così io noi andiamo sicure infatti ragazze non scrivete mio scrivete un minimo di descrizione così riusciamo a capire meglio perché sappiate che i messaggi arrivano sempre in ritardo quindi noi non sappiamo mai effettivamente a cosa si riferisce perché mentre voi lo vedete noi siamo già andati avanti Rita ma perché mi ti accasci sempre si accascia ma quella mi si accascia Maria Rosa ha confermato 14,90 tizzi si vedo perché non c'è il prezzo sopra 14,90 poi ragazze continuiamo sempre con il 14,90 anche qui abbiamo due versioni attenzione però sono diverse attenzione attenzione tizzi come sono diverse sono diverse sì infatti questa costa di più ed è più particolare è anche più corta allora ragazze qui abbiamo una versione oro platino che non è proprio un oro sparato vedi un po' più delicato questa con tutti questi fili e questa catena perfetto grazie Fiorella grazie Fiorella allora mi rimane soltanto questa 14,90 che è un oro platino però è molto delicata ragazzi molto bello come colore per le sue battute che cosa niente c'è Rita che ride per le tue tu tu gli hai detto perché ti sei accasciata ha detto per le tue battute allora qui invece siamo a 14,90 questa collana bellissima in madre perla bianca 14,90 mentre invece poi abbiamo questa nuovissima che è arrivata ieri pomeriggio in argento questa invece è 9,90 ragazze molto carina particolare sfiziosa vedete la poggio qui che la potete vedere meglio eccola qui 9,90 questa versione qui con l'argento poi andiamo andiamo avanti vediamo un po' pure questa è bella a me piace tanto allora questa invece abbiamo una versione con le perle e il rosa antico bellissima prezzo allora Silvia gioca quella da 9,90 è girocollo Silvietta diciamo che comunque è regolabile la puoi mettere anche morbida hai un pochino di gioco però certo non è non è di quelle lunghe Silvietta cioè non parliamo di catenine lunghe parliamo comunque di un girocollo hai un po' di lunghezza per dare un po' di calo però non è certo non ti arriva al decoltè no 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 arriva al massimo qui esatto quindi Silvietta dici se la vuoi se la cercavi un po' più corta un po' più lunga argento allora ok no è Rita questa riduccia mia argento quale Rita Rita stai parlando di questa ciao Angela si blocca sempre strano però io non vedo blocchi però vabbè darsi pure allora chi fa questa chi ha risposto a Rita allora io vedo non ti preoccupare Monica allora io vedo la prenotazione mia argento di Rita solo di Rita la vedo io perché nessun altro ha prenotato ah no aspetta Ornella Finocchiaro con l'ana argento da 9,90 per me eh ma dobbiamo sì dobbiamo un attimo vedere Rita Rita che dice allora Rita per favore mi confermi che questa l'hai prenotata tu perché il tuo messaggio è arrivato subito se mi dai conferma altrimenti passa a Ornella a Ornella a Ornella Finocchiaro anche io ho scritto eh Silvia per la lunghezza volevi sapere Silvia tu mi hai scritto per la lunghezza però ragazze se mi chiedete informazioni e poi arriva qualcuno dopo di voi che me la ferma io devo dare la prenotazione sì Rita conferma Rita conferma Rita ha scritto dopo allora Silvia scusami io lo so che tu hai scritto prima ma la vuoi o no perché se poi non mi dai conferma io non so a chi darla ok ho scritto ok per me va bene allora Rita perdonami è andata a Silvia Giacoglia perché effettivamente aveva scritto prima lei poi eh non io non ho letto più i messaggi però allora Rita è andata a Silvia Giacoglia vediamo c'è l'altra versione Rita vedi un pochino se no poi 14 e 90 no ragazze finite eh è inutile che continuate a scrivere ragazze era un solo pezzo Rita dice sì è questa rituccia è stata prenotata da Silvia perché è stata la prima a scrivere non avevamo letto che aveva detto ok capito io non l'ho letto neanche io però guardando indietro allora andiamo avanti 14 e 90 rosa antico e filo di perle poi vado avanti ragazze tanto ce ne sono tante allora continuo abbiamo questa versione molto particolare eccola qui guardate che bella 14 euro e 90 con il bianco il grigio il nero e l'oro questa versione stiamo parlando di una collana a 14 euro e 90 che è più una lunghezza tipo giro collo poi ma che c'è Rita ma tu li trovi sti cosi sti emotion che prendi te io vorrei sapere come li trovi solo da te li vedo tutti sti cosi allora continuiamo con il 9 e 90 sempre argento guardate ragazze anche questa che carina con albero della vita e doppio filo una catena un po' più larga una un po' più fina e una proprio leggera leggera 9 euro e 90 solo un pezzo anche qui ragazze la prima che scrive è aggiudicata solo argento 9 euro e 90 guarda se avviene qualche prenotazione per questa di chi arriva prima se ci collana con moneta argento gina eccola qui Angela mi spiace è andata a gina ragazze è andata a gina quella da 9 e 90 ha pure riconfermato per sicurezza chi è albero della vita ah no è andata si è andata a gina è stata la prima e poi per sicurezza ha pure riconfermato dopo Angela e dopo Fiorella allora qui invece siamo con delle un color antracite abbiamo anche qui tutte delle piccole delle piccole borchiette chiamiamole insomma non mi viene il termine ne avete tipo svaroschi si guarda qualcosina abbiamo adesso facciamo vedere ce l'abbiamo qua allora questa 14 e 90 grigio antracite guardate che bella anche qui abbiamo tutte delle piccole di piccoli disegni che io non riesco a capire cosa ci ha disegnato però sono molto belle sono le monetine 14 e 90 si si gina tranquilla che abbiamo visto subito il tuo messaggio quindi è andata a te sembrano delle monete vero? 14 e 90 solo grigio antracite poi qua per chi gli girano abbiamo anche la collana con le palle no a parte gli scherzi con delle sfere brillantini su queste sfere qui e poi queste invece ma sono diversi colori ragazze qui abbiamo bronzo rame bronzo rame si 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 è un po' colorata non è semplice guarda Tiziana Franco che gatto allora qui siamo a 14 e 90 ragazze quindi se qualcuno vuole la collana con le palle può dire di averla in questo caso eccolo qua allora andiamo avanti Svarosky quando ci arrivi si e tanto sto prendendo un po' così come capita allora tipo Svarosky ragazze molto bella ho questa 19 e 90 c'era anche il bracciale no però del bracciale argento è finito se non sbaglio si ah no no c'è c'è si eccolo ecco ragazzi qui abbiamo la possibilità di avere sia la collana guardate che bella ragazzi tutta tempestata di brillantini 19 euro e 90 la collana e poi abbiamo il bracciale abbinato il bracciale costa 9 euro e 90 appoggialo qui e vieni più vicino eccolo qua bracciale 9 euro e 90 ferma ferma perfetto e la collana eccola qua anche qui 9 euro e 90 scusate la collana 19 euro e 90 quindi bracciale 9 e 90 collana 19 e 90 e poi uguale stesso modello abbiamo la versione con l'oro che poi sembra quasi un bronzo eccola qui collana e bracciale per saretta collana e bracciale ok immagino quella perché abbiamo paola d'amico bracciale mio paola a quale ti riferisci perché sara consiglio ha preso l'argento tutte e due ah però sara dice questa oro e allora siamo a posto allora ascoltate allora sara consiglio ha preso l'oro paola d'amico voleva il bracciale argento e romina talotta la collana ragazzi mi confermate per favore paola d'amico bracciale argento e romina talotta la collana argento ragazzi datemi conferma altrimenti la parure completa va tutta a fiorella va tutta a fiorella allora sara ha preso la parure oro quindi siamo a posto ragazzi mi dovete confermare paola d'amico e romina talotta se è così si romina però dimmi che cosa eh io non capisco il bracciale o la collana allora argento il bracciale per paola d'amico intanto siamo a posto grazie paola invece romina cosa dice c'ero prima io ma su cosa romina forse sulla collana ma la collana ce l'ho qua forse la voleva oro no 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 si romina ho capito che c'eri prima tu ma di cosa vuoi la collana color oro fammi capire ce l'abbiamo ancora la collana eh ce l'abbiamo un'altra ok quindi tu la vuoi oro scrivi su quella lì anche oro per talotta e tu dice si collana siccome secondo me la vuole oro anche lei romina mi confermi che anche tu non la vuoi argento ma la vuoi oro per favore mi confermi secondo me è così metti su quella oro anche romina talotta no romina dice argento allora eccola allora a posto perfetto ma io infatti avevo capito abbiamo accontentato a posto abbiamo risolto vi siete riuscite ad aggiustare in una maniera perfetta solo fiorella è rimasta senza poverina prendi no no prendi la cosa perché lei ce l'ha ce n'ha un'altra in vetrina ah e tu stai da mezz'ora e non me l'hai detto per quello volevo capire lo vedete come mi tratta lo vedete se è mezz'ora che ti dico c'ho l'altra in vetrina cioè vabbè tu mi devi capire c'hai ragione eh allora fiorella per te la pariur argento confermata la scrivi quella della vetrina la diamo a fiorella si romina a posto abbiamo dato la collana argento per te tutto ok abbiamo sistemato tutte andiamo avanti poi passiamo a una collana bellissima solo argento si si allora passiamo a una collana bellissima con il verde guardate che bella ragazze dici eh ma Tiziana non mi capisce è mezz'ora che gli dico che ce n'ho un'altra parura in vetrina e lei insiste e mi guarda e mi dico ma dove sta in vetrina ce l'ho messa oggi allora Giorgia Fiori conferma che la signora la vuole argento si abbiamo capito Giorgia ma è in manpestata vuoi venire qui Giorgia sveglia che ti picchio vieni qua Giorgia dice a me no allora ragazze 19 euro e 90 questa collana bellissima con il verde e l'oro stupenda dai ritorniamo un attimino a noi via no all'ordine no a noi a noi allora poi 9 euro e 90 questa collana carinissima argento e nera no grazie a te Romina argento e nera 9 euro e 90 stupenda ragazze bellissima nera e argento poi poi collana fiore allora modellino con cauccio fiore dorato Sia come comincio a fare lo sai perché io oggi ho cambiato invece di prendere un caffè normale mi sono presa il ginseng tuo ecco che cosa è successo ti sei bevuta no l'ha già cattata però ecco vedi che cosa mi è successo io non ce l'ho mai stata così eh muo vedrai domani diamone 3-4 che c'è pure Denise a Odiziana non si tocca eh ma la tocco la picchio allora ragazze qua abbiamo detto 14 euro e 90 collana con il fiore oro Nicoletta ma che carattere ma Nicoletta mamma mia che carattere allora ragazze poi nero e oro questa ragazze è piuttosto diciamo di sostanza questa collana infatti è un po' tipo etrusca tipo etrusca vero 19 e 90 anch'io oggi vado di ginseng brava Gina brava ma a me piace proprio il sapore quindi non è che lo faccio perché mi deve dare energia o chissà che mi piace proprio ma poi perché guardo là mentre parlo ah perché io ho il tablet quindi mi sembra di parlare con loro però stanno là ah è uguale no non è uguale stanno là ma loro sono come fate vedere anche abbigliamento sì facciamo vedere un po' di robetta in offerta facciamo un casino oggi sì allora ragazzi 19 e 90 questa collana senti infatti è meglio cacciata ah tu l'hai riappesa di disgraziata no 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 stai scherziata alcune sì allora altra offerta ultimo pezzo della collana scozzese in tartan 9 euro 90 e 90 savegnaco dice ornella ha chiesto la collana argento e nera oh ragazzi ma a noi non ci arrivano i messaggi no non ci è arrivato ornella l'ha chiesta argento e nero qual è? guarda manco c'è collana catena nera e argento questa tizia questa qui esatto allora ornella eccola qui per te 9 e 90 9 e 90 scusaci ornella ma non ci è arrivato proprio ah ecco ecco adesso mi è arrivato a me buonanotte no a me proprio niente grazie fiorella per il suggerimento adesso è arrivata guarda pure Cinzia la sta scrivendo grazie ragazzi fate benissimo a suggerirci perché a noi sono arrivati ora sì alle volte in ritardo vabbè pazienza ragazzi meno male che ci sono le nostre amiche il funzionamento di Facebook ormai l'abbiamo capito che è poco affidabile almeno ci aiutano grazie collana in tartano per lo scozzese prezzo scontato da 17 euro a 9 euro e 90 ultimo pezzo ornella messa sì ok poi altro sconto sempre a 9 euro e 90 questa collana rosso e oro bellissima rosso e oro anche qui ragazze sconto a 9 euro e 90 quanto gioco ha quella scozzese te lo dico subito Silvietta eccolo qua un pezzettino pure qua diciamo non è tantissimo guarda te la faccio vedere indossata Silvietta eccola ecco la oppela aspetta che non l'ho agganciata eccola Silvietta sì Rosanna sì Rosanna ce ne siamo accorti voi suggerite quando vedete che noi non rispondiamo a qualche messaggio Silvietta dimmi se la vuoi vedi un po' di gioco ce l'ha chiaramente la puoi portare anche più corta se vuoi eccola qui 9 euro e 90 ragazze in offerta allora 9 euro e 90 anche allora ok per me quindi Silvietta vuole questa 9 e 90 tizi grazie Rosanna meno male perché infatti quella di prima nel messaggio ci è arrivato molto in ritardo allora 9 e 90 rossa eccola qui sempre in sconto vi sfuggo perché a volte scorro capito sì infatti è vero alle volte vanno talmente veloci che saltano allora poi ragazze con lana bellissima stile madre perla guardate che bella con l'oro questa molto molto bella molto particolare 19 euro e 90 guardate che bella che è vabbè con il mio grigio naturalmente non si abbina molto quando faccio gli accesoli dovrei vestire di nero completamente in modo tale che posso Katia e Rossella io voglio la rossa allora Katia e Rossella io non so se tu sei una nuova cliente o meno ci dai la tua conferma al nostro numero whatsapp per favore 990 quella lì eh tizi Silvia la vuole Silvia chi Silvia Giacoglia sì sì grazie Nicoletta gliel'abbiamo messa quella di prima Katia e Rossella dalla Svizie ah ma sei Katia sei Katia Katia del ah ok e che ne so io che tu su Facebook sei Katia e Rossella è la nostra amica nuova della Svizzera sì sì ho capito chi sei ma non sapevo che su Facebook hai di Katia e Rossella capito tu dimmelo così non mi sbaglio allora hai capito chi è no? il pacco della Svizzera sì sì ho voglia allora ragazze madre perla 19,90 eccola qui poi vado avanti ragazze 19,90 oro argento nero e pianta sì fatto Graziella grazie tesoro messa messa ragazze 19,90 questa qui è bellissima con oro argento nero e grigio che? perché te farite nera? oro argento e mirra hai detto mirra io ho capito nero infatti hai detto ma perché mi suggerisci i colori li vedo mica so accecata allora 19,90 ragazze ma se l'abbiamo svolato io il ginseng non lo voglio più perché? ma che buono perché ti fa venire mal di stomaco? no mi sto eccitando madonna madonna stami lontana madonna è uscita di conchette pari vuoi che ti chiamo Stefano? ma che dico ma quella è una creatura innocua è innocua rompe come uno grosso è piccolino 14,90 ragazze oro sto facendo rivedere perché le sto rimettendo a posto poi Stefano non che niente Tiziana che va a colla ma non molla collana madre perla per Antonazzo grazie Enza abbiamo detto il ginseng lo prendo anch'io se fa questo effetto si non smettete ride cioè ragazzi Gila Pardo e carica pallettoni ragazzi poi capite perché io faccio le dirette da 4 ore e tutto sommato sto piuttosto bene perché ho 2-3 ginseng al giorno Tiziana oggi ne ha preso uno solo guardate come sta che vuoi da me che vuoi? chi è con madre perla? chi è? ah ma te le parla Enza sì 19 e 90 e madonna che carattere allora sì sì ma c'è un caratteraccio ragazzi Tiziana l'amore non è età ma Katia ma che ma dai ma tu non sai quanti anni c'ho io ma che ma quella c'era ma ripresa dal farcofago ma non l'abbiamo assunta la dobbiamo dire dopo sì Cinzia grazie tesoro sì l'abbiamo messa per Enza Antonazza madre perla gli diamo anche Tiziana il regalo 12 e 90 cuoricino con le palle qua come si chiamano queste? con le perle perle e palle che bello il tuo pullover con l'ossetto grazie Katia Katia questo non te lo posso dare però non te lo posso vendere però li vendevamo ti ricordi nella taglia curvi? sì però questo è mio non ce lo posso dare no questo non ce lo possiamo dare ciao Tiziana mamma mia come stai infatti c'ha ragione Sandra era ora eh non lo so che fanno finta di lavorare oggi allora ragazze gattino 9 e 90 sorcio questo è sempre 9 e 90 io sento gente di là in romano il sorcio è il sorcio cioè il topo è l'utopo poi albero della vita argento 9 euro e 90 chi c'è chi c'è dell'anno vado in ticcia l'italiante 42 ma di che? l'italiante tu c'hai 42 anni no ma ha detto io c'ho 42 anni ma chi c'ha 42 anni Rita eh Tiziana ma di che? bei tempi di una volta Ritu ah Rita ce l'ho io 44 questa che è più piccola di me ma qua davvero davvero ma lei mi fa la mia mamma come io sono la mamma di Denise Tiziana è la mia mamma ciao Sammi un bacio ecco quelle verde la ciao la a parete ma verde c'era guarda vado a vedere stanno laggiù però non mi ricordo Saretta questa è una promessa eh sbrigati eh Sandra sta sempre in bagno madonna Sandra cioè Sandra ti fa finire ma sei in continente no no sta qua vicino Roma ah non è no non è come la nostra Katia dalla Svizzera no no mi portate pure cognate sì no 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 già lavora insieme è piuttosto impegnativo addirittura parenti sarebbe proprio troppo sì ragazzi cuoricini tre cuoricini Enza vita una coscia 42 mazza che cattiva pure tu Enza ma voglio dire no una coscia una coscia comunque raga pure voi siete cattive ah ma ce l'aveva con me bene Enza bene bene buonasera ciao Imma ciao Imma oggi sono donne oggi sì Imma del mercoledì siamo io e Tiziana abbiamo cacciato pure Stefano è meglio è meglio allora che dice la collana che ci ha appesa le spalle sotto il secondo 3 unica tinta tipo grigia posso vederla per favore ammazza Giusy ma io non mica capito è celestina io non ce l'ho Giusy vedi io Giusy non ce l'ho però dice la collana che ci ha appesa le spalle sotto il secondo eccola lì è celeste però il secondo 3 338 secondo 3 abbassa l'occhi prendi la celeste eh oh è questa che vuol dire abbassa l'occhi questa questa no Giusy parli di questo aspetta perché io non ce l'ho no mi sono intrecciata eh che te pareva vabbè Giusy è questa eccola questa qui era questa 14 e 90 Giusy Serena Allegri ci chiede la borsa da vedere eh Fucsia dietro sì adesso te la faccio vedere è arrivato il secondo pacco complimenti tutto perfetto e chi vi lascia più bella imma chiamo con le minacce eh cioè non cominciamo no la signora stamattina io non vi mollo vi seguo ah sì 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 ci siamo girate tutte eh qua cominciamo a aver paura ragazze 14 e 90 per Giusy credo che sia questa quella che ci chiedeva ma Giusy dove allora chi era la nostra amica che ci chiedeva Serena Allegri 39 e 90 disponibile in Fucsia o bianca molto grande eh come vedete ma c'era anche nera eh l'abbiamo venduta eccola lì ah eh ah la figlia di Alessandra stiamo qua così tanto per far qualcosa perché sì è questa ma mi sembrava grigia eh Giusy ah no no che so però continuiamo con le collane ragazzi allora io stavo facendo vedere questa che mi si è tutta intrecciata con la l'ancora con l'ancora l'ancora ha i brillantini si vedono i brillantini sì di qua si vedono sì pure su Instagram allora brillantini 9 euro e 90 poi oh queste si muove pure sì sì le mie colleghe quando arrivano i pacchi mi chiedono se mi sto rifacendo l'armadio ma poi Silvia poi forniamo anche gli armati ci stiamo organizzando per la vendita di armati io sono una napoletana brava e dolce non ti preoccupare no no ma non temevo questo guarda no 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 allora ragazzi andiamo avanti 14 euro e 90 meravigliosa è molto bella Serena sì Serena approfitta perché sono le ultime due una bianca e una fucsia non prendiamo purtroppo prenotazioni sugli accessori allora questa con questa è rossa è rossa però sembra tipo un trasparente vero? c'ha le pietre che sembrano leggermente guarda vedi? rossa con le stelle gialla con le stelle eccole qui 14 e 90 ma perché non me lo scrivete dietro e levi quelli? ti dispiace? cioè ti dispiace? non mi deve dispiacere io faccio il mio lavoro certo madonna lo fai anche in modo egregio direi io meno male ma che scostumata 14 e 90 ragazze questa con il fiore sandra dice siete stalkerizzate guarda sandra pure tu eh pure tu ci stalkerizzi che tu da Roma ogni tanto prendi e ti presenti qua beh manco l'avevo riconosciuta io sabato perché erai ingiovanita? che hai fatto? no perché hai visto sono ma c'è rete è entrata la mascherina pure tu eh grazie Maria allora sì al contrario il sole 14 e 90 ragazze questa con il fiore mi scrivi anche qual prezzo? tanto pure con la penna va bene uguale tizzi Rita dice con la gonna in che senso la gonna Rita? che vuole la gonna Rita? eh? la gonna no capito ragazze poi qui abbiamo un'altra collana bellissima tutta nuova tutta tempestata tutta tempestata di cose particolari che cosa si vedono? allora si vede l'orologio la tazzina del caffè la coroncina i dadi la chiave e basta si via dice siete fortunati che sto a Milano se no starei un giorno sì e l'altro pure e vienici a trovare ciao Carlo ciao Carlo eh oggi non ci hai salutato ancora eh sei un po' in ritardo pure tu eh vabbè lo so che stai lavorando allora ragazze Carlito ciao Carlito ci manchi oh Michela a te te mancano tutti eh non tocca Tiziana Carlito ci manchi è vero brava che bella questa collana sembra lì c'è il paese di meraviglie sì ma infatti secondo me questo fa parte ah vedi c'è la regina fanno parte della collezione è probabile eccolo qua bellissima ragazze 19,90 è probabile te piacerebbe Carlo eh abbracciarle tutte vabbè un modo di dire io l'ho presa in nero sì Katia dovrebbe essere proprio questa quella che hai preso tu se non ricordo male arrivato il pacco tutto a passo portafoglio nero piccolino per mia figlia ma carino carino ti ringrazio grazie Mariella hai sbagliato invece di dire collana hai detto collana infatti non capivo questa collana la base in catena oro o argento oro oro no è oro oro ciao morbidoso ciao morbidoso Sì scusi ma in questa diretta fai vedere anche gli articoli in saldo sì ho un carrello di finiamo le collane e partiamo adesso finisco le collane e le faccio vedere salve scusa la borsa bianca in terra c'è in cuoio no quella con la borsa è invece nel paese meraviglia il tema di questa collana sì allora Carlo pure da lì dice ragazzo condividete allora la borsa in bianco in terra allora attenzione attenzione Rosaria Colombo se ti riferisci a quelle lì purtroppo color cuoio no l'unica che abbiamo color cuoio scontata sono queste qui da 19,90 scontate 14,90 abbiamo color cuoio nera e grigia ovviamente all'interno c'è anche la tracolla collana con l'orologio per me per Simona Piumi metti Piumi ma tanto sappiamo che ha un altro cognome ormai la conosciamo Elisabetta Battisti bellissima questa collana molto particolare mi sa mi si ma sì dai prendiamola ah quindi pure Elisabetta la vuole oh allora è andata Elisabetta ha scritto pure prima annaggia chi è? Battisti? sì sì Elisabetta perdonami siccome che leggo adesso il tuo messaggio prima di quello di Simona Piumi ma Elisabetta veramente la vuoi tu perché se mi dai conferma il tuo messaggio è arrivato prima di quello di Simona quindi 19,90 quindi devo dare la precedenza a te Elisabetta per favore confermami altrimenti va a Simona Piumi perché dopo di te c'è subito il suo messaggio ragazze scusate ma l'ho letto adesso quindi devo dare la precedenza Elisabetta se mi conferma ok Elisabetta dice di sì eppure Michela Sisti in che senso pure Michela Sisti no no diceva qualcosa delle meraviglie che era l'alice del Paese delle meraviglie la collana ah sì però stava dicendo cos'era sì 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 ok no no Leonica non la voleva Michela stava solo suggerendo com'era la tipologia oddio allora che ci hanno chiesto continuiamo un attimo con le collane che dici allora ragazze 9,90 euro doppio cerchio no Simona l'avevamo letto noi battisti ce l'abbiamo prima scusaci allora Simona parliamo in privato vediamo se facendo una richiesta in magazzino e quant'altro si riesce a organizzare qualcosa sai che noi cerchiamo sempre di accontentare tutti ci proviamo non prendiamo gli ordini sugli accessori però fuori diretta magari uno ci prova un attimino ragazze ok cerchiamo di venire incontro a tutti ragazze questa è una serie di collana tutte a 9,90 euro abbiamo il cuore la mano di Fatima giusto questa è chiamata così se non sbaglio poi abbiamo la zebrata stile etnico stile un po' etnico questo mi piace tantissimo sì facciamo vedere anche i cerchietti e ovali due ovali sono due cerchi ovali sempre stessi se non sono cerchi sono ovali e se non è zuppa è pambagnato e se non è zuppa è pambagnato ma l'erba del vicino doppio cerchio per me per Silvia Giacoglia grazie Silvietta l'erba del vicino è sempre più alta che è sempre più mia questa no Rossana mia questa io non ho capito Silvia Giacoglia si è aggiudicata quella con il doppio cerchio ovale ma doppio cerchio ovale non si può sentire però vabbè Rossana tu quale vuoi 9,90 quale vuoi Rossana che non capisco mia questa allora mi è rimasta la zebrata la mano di Fatima per via con i proverbi e il cuore Rossana qual è che volevi aiutami a capire mi riferivo al doppio cerco mi spiace Rossana se guardi bene Silvia Giacoglia ha scritto prima di te infatti l'avevo già levata allora ragazze queste tutte a 9,90 euro cuore mano di Fatima e zebrata poi abbiamo altra payur bellissima 7,90 il bracciale in catena antracite e collana allora la collana 8,90 euro il bracciale 7,90 euro quindi è una payur se volete fare un abbinamento 8,90 la collana 7 sì 7,90 il bracciale eccolo qui bisognerebbe metterlo di ogni volta qua c'è scritto però qui lo devo mettere ho visto parecchi che non c'erano dobbiamo rimetterli a posto sì allora poi questa con il la mano di Fatima e la croce 9,90 euro che sembra quasi stile rosario però lo sa prendo comunque quella zebrata ok Rossana grazie 9,90 tizzi scrivilo poi 9,90 anche questa stile rosario oro e nera ragazze questa è l'anno di questo genere qui veramente ne stiamo vendendo tantissime hai visto pure stamattina qui in negozio bellissime stile rosario con croce fisso e mano di Fatima oro e nera sono molto molto belle a me piacciono ma devo essere sincera poi ragazze altra pariur 19,90 per me grazie Paola Cancellieri di quale parli Paola Cancellieri la nera rosario mano di Fatima è una croce per Caccia ragazze però non scrivete ce n'è un'altra di là sopra l'altra ah è vero c'è ragione ok allora Paola Cancellieri e Caccia Marzo abbiamo sistemato il rosario con la la mannina di Fatima ok Paola Cancellieri mi confermi anche tu che era quella con eh ma devo vedere perché croce rosario sì ma alcune hanno il cuore Marina Morini anche stile rosario non so se ci sono ancora vabbè segnala dai aspetta devo farvi sì vabbè mettila là sul foglietto sì 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 tanto di là altre minimo allora Cancellieri rosario sì vabbè attaccala su quella famo prima tizzi vabbè se no vedi tu e Marina Morini ma ha scritto proprio rosario cioè io quando vado in magazzino mi dà la collana con rosario e te fai il segno della croce ok allora ragazze viola questo bellissimo colore guardate che bello ragazzi e pariura 19,90 stupendo il colore bello 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 ragazzi guardate che carino viola eccolo qui 19,90 collana e bracciale questo si riesce a metterle vicino alle sue compagnie che stanno di qua le sue compagnie stanno tutte di là eccola eccola eh sì almeno le ricongiungiamo facciamo ricongiungimento familiare che ogni instante fa bene quelle si sono lasciati è periodo altra collana ragazzi molto bella qui abbiamo lo sconto ragazzi approfittate abbiamo solo tre pezzi da 14,90 sconto 9,90 la faccina color oro eccola qui poi abbiamo la faccina con l'argento sono tutte uguali va bene marina maria melchiorre grazie e no questo è con il nero ah perché non hai brillantini vedi oro argento e nera ragazzi queste sono scontate da 14,90 a 9,90 con il viso oro con il viso argento e con il viso nero sono tutte brillantinate però i brillantini sono neri dell'ultima 9,90 ragazzi poi ragazze 9,90 ah no questa già l'ho fatta vedere prima vero con l'ancora 9,90 ragazze con l'ancora ecco qui poi continuiamo con qualcosa di particolare abbiamo questa qui bellissima 14,90 bianca con i fiori questo è tipo un effetto sembra un caucciù sembra un gommato questa tipologia di collana molto bella morbida al fatto sembra leggermente vellutata però mi sembra che è disponibile solo bianca 14,90 con i fiori bianca con i fiori qua pure bisogna cambiare metti 14,90 15,90 ok poi 19,90 verde tiffany un bel verde tiffany acceso 19,90 poi passiamo a 9,90 una collana con cuori e albero della vita 9,90 lunga e cerchi con l'albero della vita sempre 9,90 quindi cuori e i cerchietti all'interno hanno sempre il disegno dell'albero della vita che come sapete va di gran moda 9,90 tizi approfittiamo che le pressiamo 9,90 no scrivi lì scusa perché qua sopra no qua devi scrivi là non ci riesci è a posto allora poi andiamo avanti ragazze 19,90 questa collana colorata base fucsia e viola bellissima ragazze con fiori e questa tigre 19,90 stupenda ragazze molto molto bella caduta poi guardate questa è prezzata sì allora anche qui altra altra collana bellissima ragazze qui invece andiamo su un genere che sembra che dobbiamo viaggiare perché abbiamo l'aeroplano le valigie le cuffie le nuvole guardate questa è stupenda ragazze 19,90 euro questa è molto molto particolare era questa che aveva il bracciale no vero vediamo un attimo eccola eccola lì ce l'ha messo pure vicino ah ma questo era quello questo era quello ragazzi ragazzi questo 19 attenta c'è il bracciale per terra tizzi della pariurre di prima quella viola ragazze 19,90 questa collana bellissima con per viaggiare pure gli occhiali da sole guarda 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 che particolare ragazze questa è stupenda guarda valigie guarda questa è stupenda bellissima questa mia con la valigia per Simona ok Simona ottima scelta Simona piumi 19,90 tizzi poi vado avanti ragazzi pariurre 19,90 con il bianco bracciale elasticizzato e collana 19,90 versione con il rosso sempre bracciale elasticizzato 19,90 il completo quindi rosso oppure con il bianco è la valigia sul letto quella di un lungo viaggio ma sta a te la casa allora poi ragazze qui andiamo su 19,90 anche qui un articolo particolare abbiamo questa con il nero come vedete ragazze ecco mai come questa volta ci serve dentro i panni di morbidi passi allora ragazzi 19,90 questa con l'ancora vedete con il segno della pace bella che sto vedendo ci serve che ci serve guardate che bella ragazze con il nero e poi abbiamo la versione colorata guardate che bella anche così sempre 19,90 ragazze queste sono molto molto sfiziose mi rendo conto che costano un pochino più delle altre però è vero pure che sono bellissime ciao Marietta abbinati abbinati a che? a duda ecco però con il giallo sotto no li devo ordinare guarda stanno qua però alcuni colori ieri abbiamo fatti vedere in diretta quindi alcune cose mancano o il pantalone o manca la cosa però tu scegli e poi me lo dici io te li prenoto tanto faccio con tutti così allora ragazzi scusate un attimino ci sono anche delle amiche in negozio allora dicevo colorata 19,90 e poi bianco nera grigia stesso prezzo tanto il modello è lo stesso cambiano soltanto i colori eccoci qua allora tizi io direi di cambiare un attimino già e andare sugli articoli in file mi dai un secondo ti spiace? si si ah si che ti dispiace? esatto ah ho capito allora che bello mi faccio un po' di spazio che se no qui non c'entro più eccoci qua allora ci sono ci sono ok adesso qua io mi sposto si questa perché sta qui? è perché c'è il bracciale ti ricordi? qui però mi devi mettere il prezzo 19,90 e qui mi metti 9,90 ragazze perdonatemi prima vi abbiamo fatto vedere quella tipo Christian Dior molto molto bella vedete? era 19,90 euro la collana ci siamo sbagliate e non vi abbiamo fatto vedere il bracciale il bracciale abbinato che invece merita tantissimo molto bello eccolo qua vedete? 9,90 euro allora qua mi prezzi effettivamente 9,90 e 19,90 la collana allora andiamo avanti aspetta ve lo devo girare perché sta al contrario ragazzi cominciamo con qualche ragazzi arrivano arrivano le offerte allora ragazzi cominciamo con qualche articolino in saldo per quanto riguarda l'abbigliamento ve l'avevo promesso e adesso mantengo la promessa allora dov'è il mio metro? sta di là ah non c'è qua? dove c'è la tube? di là di là? ok attenzì prendi anche l'acqua per favore in questo momento rita dice ma come faccio è arrivato mio marito e tu fai finta di niente rita fai finta di niente fai la vaga allora ragazzi adesso passiamo a delle camicie in saldo abbiamo 14,90 euro qui abbiamo un giro seno di circa se non sbaglio arriviamo a 130 e prezzo 14,90 però ragazzi aspettate un momentino che vi do che vi do la conferma della misura allora abbiamo un giro seno attenzione di 132 34 132 134 ragazzi qui abbiamo 14,90 euro Silvia posso vedere la cintura nera che si vede? Maddalena Pagano questa qui dietro Maddalena perdonami a quale ti riferisci? a questa qui dietro elasticizzata? questa qui se dici questa il prezzo è di 9,90 euro non lo so se intendi questa facci sapere allora ragazzi camicia triangoli con il verde oppure con il nero scontata 14,90 euro poi verde astratta sempre 14,90 ragazzi un giro seno abbiamo detto circa 132 134 centimetri poi combichiamo con il 14,90 e andiamo su due le camicie in raso qui invece ragazzi la misura è molto più grande perché siamo su un giro seno che arriva a 160 centimetri eccolo qua molto molto grandi da 25 euro scontate a 14,90 abbiamo la fantasia con il beige e la fantasia con il fucsia bella fucsia quanto misura la cintura è la cintura sono piccoline vale siamo intorno ai 110 cm 115 non di più purtroppo sì allora è curvi se è sì è per me Maddalena come dicevo a Valentina io adesso ve la misuro allora Giacoglia vuole quella raso fucsia è per lei ma vorrebbe le misure dei fianchi sì saluto grazie allora i fianchi siamo a 100 146 circa 146 se tiro arriva a 150 allora intanto dammela perché ha detto che la vuole ok allora questo è per Silvietta 14,90 sì allora aspetta che io mi sposto un attimino il tablet di qua e metto il carrello qui visto che adesso stiamo facendo l'abbigliamento Silvia ha detto conferma ragazze la lunghezza invece della cintura Valentina fucsia mia vuole la cintura fu Valentina non lo so la cintura ragazze misura solo 104 cm vale dimmi un po vale è piccina sì allora ragazzi qui mi rimane la camicia con le rose fucsia 14,90 bella larga poi abbiamo la verde con i triangoli la nera con i triangoli i rombi non so come potete chiamarli e la verde a stratte tutte a 14,90 euro poi abbiamo una tuta allora Denise non va no Maddalena credo di no ah vale era la camicia no è arrivata prima Silvia allora ragazzi poi qui invece abbiamo un completo in caldo cotone soltanto rosso prezzo scontato 9,90 euro soltanto rossa eh sì è piccola vale soltanto rossa questa è una vestibilità fino a doppia XL caldo cotone ragazze caldo cotone 9,90 euro questo completo tuta io devo bere un attimino scusate ragazze mia rossa Terry abbiamo detto Elisabetta per te piccolina 9,90 hai detto eh shortino è arrivato prima Teresa Gallo Teresa Gallo è stata la prima ragazzi poi giacchettino ragazze questo giacchettino scontato a 9,90 euro mia cintura nera Luisiana grazie Luisiana eccola qua prezzo abbiamo detto no Elisabetta non ti va anche se tu fossi stata la prima la rossa è piccolina abbiamo detto ragazze la tuta rossa è andata via 9,90 euro ragazze la prima è stata Terry ok a parte quello ma c'è un problema di grandezza ragazze sono piccole era piccola allora ragazze giacchettino celeste 9,90 euro vestibilità fino a doppia xl doppia xl poi andiamo avanti giacca celeste per Elisabetta Frison non la non la conosco signora Elisabetta Frison lei immagino sia nuova abbiamo bisogno della sua conferma su whatsapp altrimenti la sua il suo giacchino va a Terriga intanto vediamolo abbiamo detto anche il prezzo per caso allora scrivi Elisabetta Frison e poi sotto metti Teresa Gallo perché se la signora Elisabetta non ci conferma noi non la passiamo a Teresa Gallo ragazze in ordine c'è la signora Elisabetta Frison e Gallo e poi Teresa Gallo senti abbiamo detto il prezzo 9,90 euro allora vado avanti adesso passiamo a due camicie una cordò una color terra diciamo un sabbia scuro con un giroseno di 112 114 giro fianchi 126 130 112 114 per quanto riguarda il seno eccolo qui ragazze quindi una vestibilità fino a XL fino a 48 circa 9,90 euro rosso bordeaux questo camicione camicione color terra e rosso tutte e due brava Gina intrambe 9,90 tizi grazie Gina sì per te vanno benissimo perché tu sei una taglia piccola quindi va benissimo poi andiamo avanti 5 euro gonnellina tartan base beige vestibilità fino a 54 perché ha l'elastico in vita 5 euro questa blu vestibilità 46 48 quindi quindi la scozzese 5 euro no Roberta è andata a Gina mi spiace allora ragazzi dicevo scozzese fino a 52 54 l'ha indossata anche Denise 5 euro 5 euro invece la gonnellina blu classica 46 48 come vestibilità poi gonna di jeans 9 euro e 90 vestibilità 46 48 veste molto comoda tessuto molto elasticizzato 9 euro e 90 questa gonnellina 46 48 vado avanti ciao Maura allora ragazzi poi qui andiamo invece su un articolino simpatico perché vi ho fatto un ordine su whatsapp lo vediamo domani Anna Valerio 5 euro questa ok allora che cerchi sta allora poi abbiamo vi do la misura ragazze di questa casacchina vedete ragazze questa è stile barchetta con la manichina così molto carina Elisabetta ci ha confermato su whatsapp grazie Elisabetta grazie Elisabetta benvenuta tra di noi che benvenuta domani c'è l'altra diletta Elisabetta se vuoi tenere il pacco aperto puoi tranquillamente vedere anche la diretta di domani allora ragazze qui abbiamo un giroseno che arriva fino a 144 mazza è tantissimo eh beh si fianchi vabbè si vede però fianchi invece arriviamo fino a 150 circa ok ragazze guardate che bella praticamente la indossate così con la manichina io ce l'ho 9 euro e 90 sì 9 euro e 90 ragazze ne abbiamo tre pezzi neri tre pezzi neri un ottavo poi ne abbiamo questo è leggermente diverso aspetta aspetta è diverso sì allora ne abbiamo tre neri e una bianca blusa arricciata bianca per gina brava gina maglia nera per gloria guanina quanto hai messo? nera per 9 e 90 nera per perfetti no barbara è rimasta solo nera bianca ce l'hai tu ce l'hai tu perché io non vedo cosa? sì sì questa di chi è perfetti? allora una è perfetti e una è gloria guanina neri? sì la bianca invece di gina balbara è messa guanina guanina è nuova signora no si chiama gloria signora gloria guanina io non lo so se lei è nuova o se magari sono io che non riconosco il nome mi raccomando la conferma allora questa c'è giordino che la vuole nera no no attenzione è verde scusami sì no no tizia sto a fare io mi scrivi i nomi per favore se no mi salta barbara balzano la nera e poi le nere sono finite shortino la verde e io te le vado avanti a leggere rossana vadacca mi dispiace non c'è arrivata la nera perché barbara balzano l'ha scritta ancora prima allora ragazze le nere è andata roberta perfetti la signora guanina la signora balzano e la verde a shortino la bianca a a a gina baldo e ci siamo abbiamo finito ah no mi rimane la me ne rimane una che colorea questa ottanio nessuno ha chiesto ottanio perché non l'avevi presa manco quell'altra avevo presa per questo però non mi sta guardando allora ragazze si barbara a te è andata perché hai scritto prima allora blu mia angela cremasco perfetto grazie angela finite finite è andata a angela cremasco è stata la prima a scrivere andiamo avanti ragazzi altra offerta camicione in raso coloratissimo guardate che bello molto ampio vestibilità fino a un 58 comodo bello anche lungo scontato da 25 euro a 14 e 90 ragazzi questo è stupendo è l'ultimo pezzo rimasto da 24 euro e 90 a 14 e 90 come vedete molto ampio vestibilità tranquillamente fino a 56 58 Silvia Giacoglia grazie Silvia è andata Silvia Giacoglia quant'è 14 e 90 allora Gina continuiamo con le cose small qui siamo a 9 euro e 90 abbiamo una vestibilità vi dico subito di 100 di giroseno si allarga fino a 130 fianchi siamo da 120 fino a 140 ok ragazzi quindi una vestibilità media né proprio small ma neanche tanto tanto curvi no Giussi è arrivata Silvia Giacoglia mezz'ora fa una grigia per Simona Beccio Simona mi confermi che è questa a 9 euro e 90 giusto? io penso che sì perché è grigia ragazze ne ho una grigia una verde militare tutto a 9 e 90 due sabbia e una color e una color ecco qui i colori ragazzi avete sentito le misure mia azzurra Rossana Vadacca grazie Rossana nera per Anna Valerio no nera non c'è c'è grigia c'è verde militare e c'è sabbia nera Anna Valerio non c'è quindi vedi se vuoi un altro colore ragazzi grigia un pezzo una verde è la grigia che sembra nera e due sabbia Anna Valerio mio grigio Cinzia Corsi scusate ma il camicione non l'ho preso no Laura perché Silvia Giacoglia è arrivata prima di te un messaggio prima di te Laura mi spiace no Anna Valerio adesso è stata prenotata mi spiace è andata a chi è andata a Cinzia Corsi eh sì queste sono un po' più piccole sono un po' più piccole allora verde militare e due color sabbia sì Terry è piccola per voi tu prendi cose un po' più comode di solito non so poi quanto avevamo detto di giroseno da 120 a 130 a 128 128 130 invece i fianchi arrivavano a 140 quindi ecco queste sono le misure ragazze eh sì beh lo so allora ragazze due sabbia e una verde militare perché è rimasta senza ragazze Anna Valerio la grigia non è andata a te se puoi approfittare con verde militare ciao Elena sabbia per Anna Valerio brava Anna è un cotone elasticizzato però è lì è un 120 di seno fino a 128 130 non so se a te ti va perché so che a te precise non ti piacciono decidi tu è un cotone elasticizzato però non è bella comoda l'ampia come piace a te decidi tu lo sai Elisabetta che ormai ti conosco ecco qua una sabbia e una verde minimale arrivo ragazze sto preparando ecco qua allora poi abbiamo tre canotte scusate tre t-shirt giro seno 122 fino a 148 122 148 di seno fianchi 110 130 no no Teresa non è un tessuto fermo è un tessuto cotone garzato elasticizzato però arriva a un massimo di 128 di seno circa quindi dimmi se la vuoi lo stesso te la confermiamo verde allora ragazze 9,90 eccole qui abbiamo detto fino a poco più di 103 nera mia Fiorella Savignaco Fiorella intendi questa con il leone giusto cara beh per forza non c'ho altro che nero quanto abbiamo detto 9,90 mi rimane una nera e una lilla viola 9,90 ragazze questa è una vestibilità media perché comunque arriviamo fino a un 128 130 di giro seno chiaramente poi sono tessuti elasticizzati cioè se io la tiro ragazze naturalmente si allarga tantissimo lilla tigre mia certo imma eccola qui mi rimane solo la nera ragazze 9,90 solo una nera una nera una sabbia e una verde militare vestibilità media direi io in base alle misure che ho preso diciamo fino a un 52 54 quindi nera sabbia e verde militare eh sì terri infatti non te la consiglio tantissimo poi maglia barchetta continuiamo con il 14,90 nera tigre per maddalena pagano grazie maddalena poi continuiamo con la barchetta sempre il prezzo di quella 9,90 invece le barchette sono a 14,90 abbiamo la maculata oppure un pezzo soltanto poi abbiamo la bianca e abbiamo la verde allora ragazze vi do le misure anche di queste se volete abbiamo un giro seno di vediamo un po' fino a un massimo di 132 e di giro vita bianca per sciortino ok di giro vita arriviamo a un massimo di 142 bianca per sciortino grazie grazie grazia poi mi rimane la maculata e la fiorata verde la lunghezza Terry arrivo subito siamo a 64 64 circa 64 centimetri di lunghezza chiaramente ragazze queste se le portate calate è ovvio che copre anche il sedere insomma poi dipende tutto dalla vostra altezza 14,90 versione verde versione maculata poi adesso sono belle ce le ho anch'io eh sì queste vanno tantissimo ragazze quando rimangono degli ultimi colori chiaramente noi le scontiamo però sono tutti colori nuovi insomma non stiamo parlando di articoli vecchi della stagione passata assolutamente no tutti articoli nuovissimi allora adesso passiamo ad un articolo molto particolare da 25 euro scontato a 14,90 è un gilet diciamo un abito smanicato in ecopelle prezzo 14,90 abbiamo questa è una taglia semi curvi in senso è una via di mezzo tra small e curvi perché abbiamo un giro seno che arriva a 112 114 giro fianchi siamo fino a 124 quindi seno 112 114 fianchi fino a 124 allora è un abito vedete ragazzi è un abito in ecopelle 14,90 verde gucci beige e due pezzi nero per Alessandra grazie Ale ragazzi questa è una vestibilità media avete sentito le misure fate attenzione perché non è una curvi vera ha un'ottima vestibilità però non è grandissimo quindi ragazzi fate attenzione abbiamo il verde il beige e il nero eccolo qua tre colori a disposizione ecco qui verde panna diciamo beige è per mia figlia dice Alessandra si immaginavo Ale immaginavo immaginavo allora verde beige e nero è un abito ripeto in ecopelle scontato da 25 euro a 14,90 euro è molto molto carino chiaramente sotto potete mettere anche una camicetta un dolce vita quello che preferite però il prezzo è ottimo perché è un articolo nuovo abbiamo deciso di scontarlo da 24,90 a 14,90 poi andiamo avanti continuiamo con una casacchina completamente nera abbiamo un giroseno a 9,90 euro abbiamo un giroseno fino a 146 un giro fianchi fino a 180 9,90 euro ultimo pezzo ecco è una casacchina camicia molto grande fino a 58,60 solo nera l'ultimo pezzo 9,90 euro chi se la giudica 9,90 ragazzi ottimo prezzo poi vado avanti queste sono delle t-shirt un po' più piccine nera per me Silvia Giagoglia grazie Silvia poi ragazzi invece queste t-shirt con il viso di donna ne ho due però queste sono una taglia media attenzione abbiamo un giroseno di 110 può arrivare a 124 è andata nera no Angela è andata Silvia giro vita 102 è finita la nera ragazze allora ragazze questa è una vestibilità fino alla 48,50 con il viso di donna ne abbiamo due pezzi 9,90 t-shirt con viso di donna vestibilità fino a un 48 massimo 50 non di più tessuto in cotone elasticizzato 9,90 ci siamo? io vado avanti allora adesso cominciamo ragazzi invece con un articolo allora aspetta che mi organizzo un attimo con i modelli perché ci sono quelli con la mangiacolta e quelli con la mangiacolta allora ragazzi qui invece passiamo a delle maglie di cotone molto belle allora queste qui le abbiamo anche pubblicate ieri vero tizia tu mi confermi scontate ragazze prezzo promozionale 14,90 hanno una vestibilità piuttosto comoda perché abbiamo un giro seno vediamo un attimo che arriva fino a 160 giro fianchi fino a fammi misura bene che ho chiusi allora 140 circa ok allora ragazzi abbiamo con la farfalla arancio questo questo è farfalla arancio giusto tizia l'arancio davanti di dietro sì davanti sì farfalla arancio 14,90 la donna con il cappello nero donna con il cappello nero 14,90 donna di spalle guardate che belle ragazze 14,90 gambe della donna mi sa che ce ne sono due di quelle no aspetta che questa è in maniche corte no no questa è in maniche corte aspetta che le volevo dividere finite? sì poi donna con gli occhiali mia zebrata con farfalla eccola qua Nicoletta per te 14,90 allora ragazzi dicevo figlia se ci sto con le misure la sabbia e la verde con il pizzo sotto le prendo io 110 sì Teresa ci sei tranquillamente la verde e la sabbia sì Teresa ti confermo che ce la fai con le misure a volte arrivava più di 120 9,90 lunghezza di queste allora 7,1 71 cm della lunghezza allora donna con gli occhiali donna di spalle la donna con il cappello nero sono un cotone un cotone leggero ok una maglina di cotone leggera fina non è caldo cotone poi abbiamo farfalle colorate questa che è la donna con il pesciolino questo è un pesciolino qua sopra è il corallo quello tu so che non vedi i segni con il corallo c'hai ragione donna con gli occhiali col cappello donna con il cappello ok invece fiorella donna con gli occhiali donna con gli occhiali eccola qua e Ariante Ariante penso di sì Rita mi sembra di sì oddio c'è un po' di confusione in testa però sì Elisabetta Fornari il cappello nero no Elisabetta è andata a Simona Beccio se vuoi Elisabetta c'ho questa con il cappello farfalle colorate Beccio ce l'hai? aspetta che sto vedendo una cosa farfalle colorate per Simona Beccio abbiamo già messo no? no era quella ah un'altra sì farfalle colorate eccola perché lontano ok allora no io non trovo allora aspetta un attimo ai tizi perché c'ho un problema che devo allora Rita te le sto mettendo da parte adesso perché non avevo ancora visto il tuo messaggio ed eccole qui tu ne avevi due Rita eccole qua Rita Ariante mi confermi queste due tu mi avevi prenotato le sto guardando solo adesso mi spiace purtroppo prima non ho potuto ah beh l'abbiamo presa è giusto? la gialla non c'era ok è a posto ok allora ragazzi ricontinuiamo allora abbiamo un'altra con le farfalle Simone e Beccio abbiamo messa farfalle colorate vero Tizia? allora abbiamo un'altra con le farfalle arancio poi abbiamo mi dai quella con il violino per Teresa? e qual'è quella con il violino? qual'è con il violino? vedi che trovi in violino no con il violino forse il colore no allora Terry non ho capito io c'ho il paesaggio poi c'ho una donna con il cappello ah dice mezza manica aspetta poi c'ho un'altra con la farfalla e questa che c'ha il farfalla e il viso della donna Rita dice quella tua eccola là Silvia l'hai passata a mo' qual'è? vai avanti ancora ancora stop questa? esatto dove sta il violino? no è Rita sto parlando di Rita mezza manica quella poi Rita questa anche? venerdì friday io non lo so però non so se sia quella allora ragazzi per quanto riguarda la manica lunga mi rimane il paesaggio il costo è di 14 euro e 90 laura 14 e 90 poi abbiamo la donna con il cappello la farfalla e la farfalla con il viso queste sono le ultime quattro con la manica lunga poi invece con la manica corta queste non eravamo facciamo prima stai sapendo sì allora vabbè giornale dai che andava bene sul pantalone che ho preso quello giallo eh ma tu già ne prese due eh Rita eh già ne ha prese due lei vabbè poi vediamo in privato dai allora qui abbiamo il giornale mia condonna Mercedes Gallo con la donna Mercedes questa giusto 14 e 90 ragazze se mi fai vedere le altre due che abbiamo messo da parte mi metti anche il paesaggio per Simona Beccio sì Simona questa è per Beccio allora Rita queste erano le tue vedi ok poi se vuoi posso aggiungerti anche questa dimmi tu Rita se la vuoi lasciala un attimo in sosteso allora Simona Beccio le abbiamo messo Katia vuole il giornale eccola Katia per te il giornale Terry dice no quella con il violino ce l'ha Silvia ah eccola tizzi eccola per Teresa Gallo Rita fino adesso sono tre messe da parte per te dimmi se una la devo levare ah il giornale con le bambine ah ce n'è un'altra sì Katia per te l'abbiamo messa ne ho un'altra ragazze con il giornale e le bambine poi mi è rimasta le gambe nella donna Elena Simona è arrivato il pacco tutto favoloso ma nascondo tutto dal dalla sorella il prezzo dalla manica corta tutto 14,90 ragazzi tutto lo stesso prezzo la blu e quella pua dice ah ok quindi Rita ti lascio la pua un'altra con il giornale per Barboni ok questa la levo allora Rita e Anna è arrivata Angela prima Angela Barboni con il giornale eccola quelle sono per Rita oddio la parola che sta davanti alla telecamera mi sa c'era il foglietto l'hai toccato per caso no io non ho toccato forse se l'ha caduto queste due sono per Rita eccolo là me lo dai il foglietto ah c'era su questo ok sì spero di aver capito perché mi ha detto la blu e la pua allora ragazzi mi rimangono le gambe della donna poi mi rimane poi ho preso una da 10 euro già la controlla su whatsapp poi abbiamo quella del paesaggio paesaggio e gambe della donna poi io giornale con bambine no finita no solo finite come bambine scusa mi fai vedere le ultime due prese da riga allora ragazze poi ho la donna con la maschera mia condonna le ultime due prese intende anche quello della sorella eh non lo so io ti faccio vedere le sue sì allora fiorella mia condonna fiorella quale no io c'ho solo questa di teresa poi c'è la sorella che ha preso quell'altra teresa tu c'hai solo questa ha preso la donna con farfalla poi tua sorella ha preso la donna con farfalla allora di mia e di mia sorella fiorella mi dici qual era quella con la donna se con le gambe questa con la donna e la maschera mi sa di sì mia donna con cappello manuela manuela spina eccola io credo che con la donna era fiorella era questa fiorella mi confermi che era questa rita che cosa è tua non capisco questa chi è fiore quella è fiore quella che in mano fondo ah con la maschera sì ok allora ok fiore siamo a posto allora a me rimane farfalla paesaggio e le gambe della donna tre pezzi poi abbiamo fiori fantasia fiori rita pure questa era bella per te tiziana leggi sì ti stiamo leggendo rita è mia l'abbiamo già fatto tu a te no 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 questa è terri questa è teresa allora queste sono teresa gallo rita te già ne abbiamo messe due che cosa vuoi tua io non capisco non so che si riferisce non riesco a capire ti leggiamo ma non capisco quella bendata quella con la maschera è sua ma non lo so in che senso l'aveva presa prima lei no rita guarda prima di te c'è scritto daniela d'angello e prima ancora fiorella savegnaco quindi è arrivata prima fiorella dite mi spiace rita allora fiori mia con il fiore Anna Valerio eccola qui allora ragazzi riassumo quello che mi è rimasto sì io ho capito rita quale vuole Katia ho capito il problema è che è arrivata prima fiorella di lei che ha scritto mia con la donna quindi devo rispettare la sequenza allora ragazze gambe di donna me ne sono rimaste due pezzi poi ho due con il paesaggio poi mi rimane una con la farfalla poi una con la donna e il cappello su whatsapp addirittura ma scusa rita su whatsapp ieri me ne hai chieste due non tre mi hai chiesto eh ma prima me l'hai fatta levare vabbè rita vediamo in privato perché non ci sto accadendo nulla di pazienza rita quale gli abbiamo messo scusami eh lei mi ha chiesto una però adesso non ha presa un'altra io non ci sto capendo nulla eh vabbè pazienza non ci sto capendo nulla scusate orologio eh rita io ti ho fatto vedere quelle che ti abbiamo messo da parte tu mi hai detto di sì eh mo me ne ti stai chiedendo un'altra io non lo so mi spiace rita non ci sto capendo niente scusami allora anche con orologio se la vuole dalla rita dice fiore poi vediamo fiorella poi vediamo domani perché ci sentiamo dopo in privato ragazzi se no mettiamo tempo per una maglia su abbiate pazienza allora con l'orologio ok quindi l'orologio per grazia shortino ok Terriga dice puoi levare il violino allora rientra anche il violino ragazzo il violino sta è rientrato allora ragazzi riassumo per l'ennesima volta allora abbiamo il violino l'orologio è andato via Katia mi dispiace è stato prenotato da da non mi ricordo allora ragazze se vi fermate un attimo io vi faccio un riassunto lascio la maglia grigia è piccola gambe donna sta bene con pantalone cammello sì sì è chiaro ha voglia è la sua è la sua certo che ci sta bene sì cinzia allora ragazze riassumo un attimino perché così non facciamo confusione vi faccio vedere quello che è rimasto allora è rimasto la donna la facciamo rientrare cinzia allora ragazzi è rientrata questa qui grigia a 9,90 se qualcuno c'era qualcuna che la voleva grigia ma non ricordo scusate qualcuno era interessata a 9,90 ti contattiamo domani Elisabetta appena facciamo il tuo ordine giusto Silvia ok la prendo cosa quella con la donna sì con le gambe giusto Terry allora ragazzi attenzione mi rimane il violino poi mi rimane un'altra con le gambe della donna mia grigia Anna Valerio eccola qua eccola qua era lei lo sa proprio sì Simona le misure sono sempre uguali allora violino gambe della donna due con il paesaggio poi la farfalla e la donna con il cappello e abbiamo finito non ne abbiamo più poi attenzione abbiamo allora prezzo 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 14 gambe della donna Franca Saregnano grazie Franca ok ragazzi io vado avanti andiamo con il 14 e 90 aspettate un attimino che devo controllare il prezzo perdonatemi un secondo Marnacchio un attimo sì ok confermo misure di queste Silvia queste sono piuttosto grandi anche quelle di prima comunque allora qui abbiamo una lunghezza di 67 lunghezza 6-7 poi giro seno arriviamo a 160 giro fianchi fino a 150 ragazzi questa è una maglia molto bella composta da due pezzi abbiamo 14,90 abbiamo sotto la canotta bianca vedete ragazzi è staccata e sopra la casacca tutto in cotone garzato tessuto sempre elasticizzato abbiamo la testa marroncina poi verde gucci beige e rossa si Silvia non sono molto lunghe sono belle larghe comode però non sono molto lunghe è vero oggi sono articoli in sconto però abbiamo solo un pochino di merce in saldo è un carrello non di più ok ragazze allora chi è che l'ha scritto? sì Monica abbiamo cominciato da un pochino ma non era tanta merce allora Stefania l'abbiamo detto prima giro seno fino a 160 giro fiani oltre 140 giusto 145-146 però la lunghezza non sono molto lunghe perché sono 61 centimetri circa allora 14 e 90 sono composte da due pezzi canotta bianca sotto e sopra questa sembra lo sciffono sopra disegnato sì 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 no che poi è un cotonato sì lo sai che mi sembra tipo come si chiamano aiutami tipo no le lumache aiutami le tartarughe vedi è tartarughe ah la lavorazione sì 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 allora marroncino poi verde gucci beige e rossa 14 e 90 poi andiamo avanti allora poi mia colore verde grazie Angela è tipo giraffa esatto sì è tipo giraffa è vero anche sì sì allora ragazzi adesso passiamo a delle camicie lunghe lunghe abbiamo un giro seno che arriva a cento marroncina per Michela i caracistici cento trentotto centoquaranta di seno e te la passo subito tranquilla e di fianchi siamo fino a cento trentotto eccola qua per Michela allora ragazzi anche qui abbiamo delle camicie in sconto a quattordici e novanta ragazzi queste venivano 24 e 90 scontate 14 e 90 colore tiffany arancio no come no ruggine ruggine poi bianca e beige ragazzi sono molto belle sono lunghe abbiamo i bottoni lateralmente bottoni davanti dorati sono molto molto carine allora tiffany ruggine bianca e beige bianca bianca per monica marie angela romano ruggine sì sì monica il pieno è di lo dico subito fino a 140 per me color beige no barbara pucci mi è rimasta tiffany e bianca anche laura mazzone ruggine è andata via laura è già andata via ruggine è andata a mariangela romano ragazzi questi sono gli ultimi due bianca e tiffany la ruggine è andata a mariangela romano e la bianca a chiapponi monica ha pure confermato perfetta puoi farmi rivedere la verde con i fiori e misure bianca è mia sì come bianca è mia oh ah mia è bianca porca miseria ha sbagliato allora chi è che l'aveva chiesto che cos'è beige allora barbara pucci ti confermo che la beige è per te abbiamo scritto male noi monica c'è la bianca poi pucci c'è la beige pucci barbara quindi siamo a posto e mi rimane la tiffany tiffany ragazzi è l'ultimo pezzo della camicia tiffany frison ok grazie la barchetta non ho capito Teresa la barchetta c'aveva che voleva vedere la barchetta verde Teresa volevi vedere questa questa qui ti interessava forse voleva le misure non ho capito si voleva le misure la barchetta arriva fino a 134 di seno e i fianchi fino a 100 aspetta che non ci vedo 138 140 e la lunghezza avevamo detto che era intorno a 64 ah no si più o meno 64 cm Teresa dimmi se la vuoi era rimasta così 14,90 oppure così Silvia Angela Barboni bece giraffa voleva mi sa si si messa Nicoletta si 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 io voglio si si fatto Nicoletta grazie Teresa mi confermi se la vuoi o meno se no vado avanti allora poi ragazze passiamo a due maglioncini a 9,90 euro però ragazze queste sono una taglia piccola soprattutto corte sono corte non è tanto la taglia perché può arrivare fino a 46 48 ma più che altro sono diciamo corte ecco quindi non è tanto la larghezza quanto la lunghezza 9,90 euro grigio argento oppure nera massima vestibilità fino a XL LXL 9,90 euro Teresa dice ok la prendo maglia nera per Gina Baldo questo è per Teresa quanta era allora 9,90 no quella no è Gibaldo la nera è 9,90 è Gibaldo 14,90 quella verde di Teresa Carlo allora poi ragazze mi rimane questa qui argento grigia 9,90 euro ragazze è cortina però non avessi più affino a LXL posso vedere il cerchietto pure detto è quello limone ah i cerchietti facciamo così facciamo vedere i cerchietti perché più di qualcuno che ore so ecco allora ragazze facciamo vedere i cerchietti perché effettivamente tanti di voi ce l'avevano chiesto allora i cerchietti sono tutti a 9,90 euro abbiamo cerchietto bianco nero come si chiama aiutami bianco nero catena catena bianco nero non mi teniva cuoricini beige cuoricini rosa i cerchietti tutti 9,90 euro poi in stoffa nero blu elettrico e lime forse proprio questi dice sì simona non so se ti riferivi a quello lime blu elettrico e nero eccoli qua poi c'è anche bianco mi sembro sbaglio ah è un altro poi con un pezzettino di catena guardate che belli questi nuovissimi abbiamo il panna il nero e l'ottanio anzi carta da zucchero più che ottanio guardate che belli ragazze 9,90 euro panna nero e carta da zucchero bellissimi 9,90 euro questo me lo prendo uno pure io poi con i brillantini con i brillantini ragazze fini tutti con delle pietre bellissimi lilla nero rosa e bianco nero mio Elena simula ma quale vuoi quello più grande perché ci sono fagli vedere questo Silvia sì Elena parli di questo Elena fammi capire se è questo quello che dici tu quanto hai detto tutti i 9,90 Elena barboni cerchietto con i brillantini lilla allora questo per Elena poi ragazzi cerchietti no è Angela Angela barboni è quello là con i brillantini lilla Elena non ho capito se era quello là vedi che ti dice tra un po' me lo dice perché sta su vista io blu elettrico allora è quello lì chi è Simona Simona Piumi eccolo Simona ah è pure lime ecco qui anche questo ok ecco allora ragazzi continuo vado avanti cerchietto con le pietre nero rosa e bianco poi cerchietto gioiello abbiamo quattro tipi diversi abbiamo il multicolor bellissimi ragazze tutto 9,90 argento nero e rosa antico bellissimi guardate ragazze 9,90 mi fai rivedere quanto è abbombato il blu per favore eccolo il blu eccolo qui cerchietto gioiello multicolore e nero per Angela Barboni grazie Angela allora qui brillantini Simona Cernigliaro brillantini beige no questi no questo è argento rosa antico o rosa antico Simona si sta chiedendo c'è no beige non c'è ok confermo il lime e blu elettrico ok Simona a posto ragazze del gioiello mi rimane l'argento e il rosa questo è confermato a te chi è ah si si mi ha confermato mio rosa antico pietre Luisiana grazie Luisiana vado avanti ragazze poi abbiamo intrecciati intrecciati abbiamo quattro colori abbiamo il panna vedete ragazze intrecciato in stoffa lilla verde gucci nero e panna argento mio mara camiono ecco l'argento per te ma no mara maria scusa allora poi ragazzi ci metto il nome perché ci abbiamo cercati a noi camiono è la sorella infatti c'è uno stesso pacco in comune lei ce l'ha già incominciata allora ragazze panna nero verde gucci e lilla cerchietto nero stoffa per me silvia giacoglia grazie silvia ragazzi vi saluto e veniamo domani ciao nicoletta ciao silvia la signora pucci ci sta prima di chi no no argento è per barbara pucci oddio dove sta l'argento per me non c'è arrivato ah non c'è arrivato ha ragione maria perdonaci è vero c'è prima barbara pucci scusate ragazze a noi è saltato però è vero adesso mi compare grazie ragazze scusate allora va a pucci l'argento perdonateci grazie grazie ragazze scusaci maria maria camiolo scusami ma effettivamente sì adesso mi è comparso barbara pucci prima di te io non ce l'ho proprio no ma è salito sopra c'è c'è è salito sopra allora continuiamo ragazze abbiamo simola non mi ha detto niente più ragazze continuiamo abbiamo il nero con questo che colore è sembra è rosa antico sì sì quel rosa nero con il rosa antico volevo solo sapere se avete t-shirt 48 no michela oggi no grazie a te paola tranquilla barbara non ti preoccupare barbara poi magari possiamo vedere se le troviamo nero con rosa antico mio grazie Angela barboni allora ragazze nero di pelle poi cuoricini salmone poi cuoricini beige nero con pietre che belli questi e beige con pietre guardate che belli ragazze senti a simula io intanto metto questo perché non so non mi risponde però c'era questo quando tu hai detto lei ha detto nero mio dici io non so non riesco allora ragazze dopo mi cadere a casacca dietro con il giallo nero bianco terri quale dici quella là ecco la questa sì questa Teresa penso quella non si vede posso rivedere anche quello beige rosa con i cuori per favore sì eccolo simona nero con pietre mio angela barboni angela barboni ah questo qua grazie angela ti ti aiuto un po' ma no però sono tutti belli questi cerchietti oh mazza allora angela barboni dietro mio eccolo qua simona rosa e beige con i cuori poi nero in pelle cuori salmone cuori beige e pietre beige poi vado avanti ho quasi finito ragazze cerchietto nero con pietre vorrei prezzo Danila Franceschini è finito mi dispiace comunque i cerchietti tutti a 9,90 euro vado avanti ragazze allora abbiamo con ehm catena con la catena fascia fascia catena non ti viene pronto con la catena allora abbiamo verde gucci non capisco verde gucci poi abbiamo il fucsia poi nero con le pietre e rosa ma rosa antico beige che è beige o rosa no è beige è beige vero cerchietto mio nero con perline nere io beige Gina questo giusto allora simona più beige con le api beige con le api ce le tu vero tizi fatto simona per te Gina mi confermi che è questo giusto che hai in mano dice ok ciao tiziana ciao tiziana questo sì per Gina baldo ragazzi mi rimane catene otanio o verde gucci non riesco a capire bene il colore però più o meno è quello fucsia e beige con le pietre abbiamo finito ecco qua questi li abbiamo già fatti vedere siamo a posto ok ragazze io direi che sono le 19 e rosa cuori per simona rosa cuori eccolo qua no non è quello è l'unico con rosa cuori oh è questo simona mi confermi che è questo giusto e beige con le api ok sì messo via a posto grazie ragazze scusateci ma sono le 19 oggi è la nostra seconda diretta siamo piuttosto stanchi allora ragazze condividete questa diretta per favore aiutateci a crescere ricordate che le nostre dirette adesso sono il martedì il mercoledì e il giovedì sempre alle ore 16 martedì e giovedì con tutto l'appigliamento curvi e qualcosina di small il mercoledì con gli sconti e tutto il mondo degli accessori ragazze se volete aggiungere qualcos'altro al vostro ordine fatelo pure dopo la diretta chiaramente noi vi contatteremo da domani in poi chiuderemo i pacchi come al solito come stiamo ormai dicendo il venerdì e sabato ragazze buonasera da tutte ci vediamo domani per l'altra diretta con Denise, Carlo, Stefano, Tiziana no no non vengo proprio Tiziana non verrà si rifiuta ciao ragazze buona serata a tutti un bacio ciao belle ciao stavo andando via facci se mi chiudi ciao ragazze buona serata condividete condividete ciao belle ciao ciao ragazze grazie ciao 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 ciao